Io vi porto in un bellissimo santuario, ci spostiamo in Francia grazie anche alla presenza di Suor Susanne Lotter che abbiamo già in collegamento Skype. Eccola qua, ben trovata Suor Susanne, grazie. Grazie, buongiorno. Allora, con gioia e con gioia che ci colleghiamo con Ever, il santuario, perché è con gioia che Suor Susanne ha accolto il nostro invito e ci farà fare anche un brevissimo giro nel santuario dove lei si trova. Suor Susanne, come festeggiate questa giornata dedicata a Santa Bernadette? Allora, oggi facciamo una preghiera alle 15, perché le 15 sono l'ora quando Bernadette ha vissuto il passaggio al cielo e quindi è importante fermarsi un attimo qui per ricordare questo momento importante che lei ha vissuto con tanto abbandono, direi. L'ha vissuto con pace, quindi riflette proprio tutta la sua vita. Tutta la sua vita? Sì. Scusami, ti do del tu, Suor Susanne, facciamo prima. Tutta la sua vita, seppur breve, perché sappiamo, insomma, essere stata una vita anche di sofferenza verso la fine, è morta a 35 anni, cosa noi vediamo adesso ecco una statua che la ritrae, cosa lascia a voi della congregazione, Suor Bernadette? Quale spiritualità? Lascia proprio questo ricordo della tenerezza di Dio, perché Bernadette ha fatto l'esperienza nella sua vita della tenerezza di Dio. La prima esperienza era la grotta di Lourdes e per questo abbiamo anche qui davanti al santuario una grotta che ricorda questo incontro importante che ha cambiato la vita di Bernadette. Per voi cosa significa essere, tra virgolette, seguaci di Santa Bernadette? E imparare da lei, con lei, di lasciarci amare e diventare testimoni di quest'amore di Dio che ci ama come siamo. Perché è questa anche l'esperienza di Bernadette a Lourdes? Essere scelta da Maria come ultima, come più povera. E quindi quest'amore di Dio che ci ama gratuitamente, senza guardare da dove veniamo, senza guardare la nostra intelligenza. Bernadette diceva che era perché ero la più povera e la più ignorante che la Santa Vergine mi ha scelto. E quindi questo è proprio una cosa che ci parla anche nella nostra congregazione. Perché il nostro fondatore al XVII secolo diceva Non abbia altri affari di quelli della carità, altri interessi di quelli degli ultimi. E' proprio lì che Bernadette si è anche riconosciuta, scegliendo questa congregazione. E quindi è proprio una cosa che noi portiamo nel cuore. Questa esperienza che forse ognuna di noi ha fatto a un certo momento nella nostra vita, di essere guardata, amata, com'è. E quando abbiamo fatto un'esperienza forte nella nostra vita, ognuno di noi ha voglia di testimoniare di questa esperienza nella sua vita, di condividendola con gli altri. E' proprio questo che portiamo nel cuore. Vogliamo dire al mondo che Dio è carità, tenerezza, amore. Privileggiata Santa Bernadette, ma è rimasta semplice e vivace allo stesso tempo. Lei disse sono incaricata di dirvelo, ma non di farvelo vedere. E' un po' quello che ci tramandiamo tutti, no? Cerchiamo di dire, di testimoniare quella che è la carità, anche per quanto vi riguarda. E poi Bernadette ci mostra anche che dire la carità non è un dire con le parole. Possiamo dire Dio è amore, ma è molto più difficile viverlo. E' proprio questo che Bernadette ha sperimentato nella sua vita. Perché è facile amare quando uno sta bene, è facile amare quando vediamo una persona per una volta nella sua vita. Ma qui a Nevera ha vissuto 13 anni, quindi 13 anni senza poter fare grandi cose, perché era malata. E in una vita quotidiana è difficile accogliere l'altro con me, anche accogliere la vita con me. E' proprio lì che si gioca tutto l'impegno, tutta la voglia di vivere dell'amore di Bernadette. Ha detto un giorno, non vivrò un solo istante senza amare. E' una cosa difficile quando ci pensiamo nella nostra vita quotidiana. E anche per lei. Perché aveva, come diceva lei, un carattere forte. Quindi quando uno ha un carattere forte, a volte esprime anche la sua rabbia, esprime anche quando non va bene. E quindi anche per Bernadette a volte diceva io non ne posso più. Ma comunque impariamo da Bernadette una cosa bellissima. Qui vedete il portone da dove è entrato Bernadette. Sono posti che portano la quiete, la calma. Perché tanti pellegrini giungono lì? Sicuramente per far visita al corpo di Suor Bernadette, ma per ritrovare anche che cosa nello spirito. Sì, esatto, lo dice bene. La prima cosa è soprattutto le persone sono attratte spesso per il corpo di Bernadette e poi scoprono questa vita quotidiana di una persona che impara a privilegiare l'amore nella sua vita. Quindi Bernadette diceva non vivrò in un solo istante senza amare, come l'ho detto prima, ma diceva anche il primo movimento non ci appartiene ma il secondo. E questo è proprio bellissimo. Perché il nostro primo movimento nel nostro cuore non è sempre l'amore. E Bernadette ha fatto questa esperienza. Ha fatto questa esperienza e poi ha detto dentro di sé ma che cosa voglio nella mia vita? Voglio scegliere la rabbia? Voglio scegliere di rinchiudermi su me stessa? Oppure voglio scegliere l'amore? E quindi guardando Gesù Bernadette impara che è il più importante e comunque scegliere l'amore. Ma non è facile e quindi sentiva anche tutte le sue resistenze nella sua vita. e diceva guardando Gesù Gesù mio dammi il pane della forza per rompere la mia volontà e fonderla alla tua. È bellissima questa cosa che ci hai raccontato Suor Susanna. È un po' come noi comuni mortali diciamo bisogna contare fino a dieci prima di esprimersi perché si calma la rabbia insomma c'è bisogno un po' di calma per dire certe cose perché il primo movimento non va utilizzato come diceva Suor Bernadette come tu hai sottolineato meglio il secondo si è più calmi e più di cuore. Suor Susanna il posto è incantevole avremo bisogno di una dose ogni giorno di questa quiete che voi vivete che voi vivete lì sicuramente a 365 giorni l'anno ma c'è un momento in cui vi sentite giù come vi ricaricate o per voi non è così? È vero che in ogni vita quotidiana ci sono dei momenti felici dei momenti più difficili anche in una vita di comunità perché come ogni persona quando viviamo e poi forse ne abbiamo fatto ancora più esperienza durante il lockdown quando si resta un po' più rinchiuse nel posto poi siamo una comunità di quattro suore e quindi incontriamo anche i problemi che incontra ogni famiglia quando si vive insieme che è difficile amare nel quotidiano e lì proprio Bernadette ce lo ricorda dicendo proprio questa frase del primo movimento che non ci appartiene ma il secondo il secondo movimento è anche quando a volte ci succede di arrabbiarci chiedere perdono tornare dall'altro anche se nell'interno io mi dico no io non voglio più tornare dalla persona voglio più parlare con lei comunque ogni volta che riusciamo a riscegliere la comunicazione della relazione non sentiamo una grande gioia dentro e credo proprio che questo sia il segreto della gioia tornare chiedere perdono lasciarci rialzare dall'amore di Dio e proprio questo anche l'importanza ascoltare l'amore di Dio che scopriamo ogni giorno nella contemplazione del Vangelo nella contemplazione di Gesù come Bernalette lo faceva ecco insomma voi siete suore che non decidono di rimanere dietro le grate di un monastero ma di vivere con la gente con il popolo lo hai trasmesso bene anche in questo breve collegamento per cui non possiamo che ringraziarti noi speriamo ci siano altre occasioni per ritrovarci e venire a farvi visita anche perché in questo periodo non potendo andare in giro fisicamente ecco ci fa piacere anche soltanto viaggiare virtualmente perché se poi ci si viene a ricaricare soprattutto nello spirito e nell'anima insomma non possiamo che esserne contenti e gioiosi come tu stessa ci hai accolto quando te l'abbiamo proposto questo incontro quindi grazie grazie a voi per l'invito e poi adesso noi vi invitiamo quando potrete venire qui io mi prenoto la casa è stata aperta mi prenoto e non mi aspetta grazie Sor Susanne grazie di cuore buona festa di Santa Bernadetta a tutte voi buona festa grazie alla prossima